Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo ad analizzare la tendenza medio per questa settimana per l'inizio, anche perché sembra che ormai l'estate abbia definitivamente rotto e nuovi ingressi atlantici potrebbero colpire la nostra penisola. Andiamo subito a vedere. Allora, come abbiamo notato anche questo fine settimana, soprattutto a nord, in vista di grandi stabilità, con forti precipitazioni, da nord fino al centro Italia e anche il sud però non è stato saltato. Prossima settimana, che saranno i primi giorni, dovrebbero essere più o meno prevalentemente soleggiati, però alla fine, verso la fine della settimana, un nuovo minimo depressionario potrebbe avvicinarsi alla nostra penisola portando delle stabilità con precipitazioni anche abbastanza forti, soprattutto sul centro Italia. Sarà una perturbazione veramente molto veloce, non ci sarà, non so se sarà molto tempo sulla nostra penisola, però il giusto da, nuovamente, portare a diminuzione termica e anche rinfrescare. Precipitazioni che saranno anche sul centro-sud. Nella tendenza meteo, stiamo parlando comunque del tardo, fine prossima settimana, quindi stiamo parlando del 26, quindi proprio tra, nella fine della prossima settimana parliamo del weekend del prossimo, le precipitazioni al nord potrebbero anche essere già presenti, la giornata del 25, quindi stiamo parlando di venerdì, sabato e domenica, però nella tendenza meteo che già da un poco di tempo si sta presentando e che potrebbe poi andare a essere confermata. Precipitazioni che invece durante questa prossima settimana, parlando invece dell'estremo nord, quindi Piemonte e Lombardia, potrebbe essere stabile già nella giornata di martedì con qualche possibile rovescio, non molto intenso, un passaggio nuvoloso nella giornata di giovedì. Quindi l'autunno sta iniziando a farsi sentire, non è ancora iniziato ufficialmente, perché mancano ancora tre giorni, due giorni scusate, però iniziamo già a sentire i suoi primi effetti. Quindi prossima settimana che sarà instabile prevalentemente al nord, e sul finire potrebbe anche arrivare delle piogge al sud. Questo è tutto, un caro saluto al vostro Medio Italia e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di essere un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo aggiornamento meteo.